Non è accettabile che un sindaco prenda l'iniziativa di dichiarare pubblicamente che non si atterrà alla norma dello Stato italiano che noi chiamiamo Decreto Sicurezza e con questo fare un'azione tipo demagogico. Così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in merito allo scontro ancora più che mai acceso sul Decreto Sicurezza tra sindaci che si sono opposti alla sua applicazione e governo. È nata pertanto un'iniziativa da parte di molti sindaci di varia estrazione una lettera che abbiamo in moltissimi sottoscritti indirizzata al Presidente De Caro che tuteli l'unità dell'Anci e quindi convochi sicuramente una riunione con il direttivo e con un numero sufficientemente elevato di sindaci per discutere quali sono le eventuali modifiche che questi vogliono richiedere al Decreto Salvini delle quali lui si farà la torre nei confronti del Primo Ministro. Noi siamo un'istituzione, è come tale un'istituzione repubblicana e come tale abbiamo l'obbligo di attenerci alle leggi dello Stato. Nel momento in cui la Corte Costituzionale dovesse decidere che alcune parti o tutto il Decreto Salvini sono incostituzionali, a quel punto il decreto verrà o modificato o ritirato. Ma fin tanto che le leggi dello Stato un sindaco non può fare altro che applicarlo. Le uscite sull'invito agli uffici di non applicarlo sono improprie, sono demagogiche e portano, ripeto, soltanto alla divisione di un organo che per 20 anni è stato unito intorno alla figura del sindaco che è l'Anci. Secondo lei invece il Decreto Sicurezza va applicato o perché? Va applicato perché in questo momento è l'elemento di certezza per quello che riguarda un tema che per molti sindaci è un problema. Che poi per alcuni sia considerato un'opportunità mi pare molto strano, ma accetto la posizione di chiunque, però bisogna mettersi a un tavolo e discutere se i problemi che crea il flusso migratorio indiscriminato sono maggiori delle opportunità che questo produce. A mio modo di vedere i problemi superano grandemente le opportunità e quindi un freno come quello che ha posto Salvini era sacrosanto. E la gestione all'interno delle nostre collettività della presenza dei migranti attualmente in sede deve essere riferita a norme certe come il Decreto Salvini impone.